domanda kail gibran ha scritto ho imparato il silenzio dalle persone loquaci la tolleranza dagli intolleranti e la gentilezza dagli uomini scortesi non dovrei provare ingratitudine verso questi maestri che cosa vuol dire che ogni incontro ogni evento della nostra vita nessuno escluso avviene al fine di farci evolvere domanda kail gibran ha scritto ho imparato il silenzio dalle persone loquaci la tolleranza dagli intolleranti e la gentilezza dagli uomini scortesi non dovrei provare ingratitudine verso questi maestri che cosa vuol dire che ogni incontro ogni evento della nostra vita nessuno escluso avviene al fine di farci evolvere